E' sfida tra il governatore Zai e il prefetto Lega sui profughi a Doderzo. Il segnale è arrivato chiaro ieri con l'adesione del presidente dei Veneti alla fiaccolata organizzata dai cittadini lungo le strade della città per dire no ai profughi all'ex caserma Zanusso. La misura è colma, la misura è colma e noi non possiamo accettare che i prefetti si giustifichino dicendo semplicemente che è un'emergenza. Le emergenze non si gestiscono così. Con Zai e al di là dei colori politici anche tanti sindaci che hanno partecipato alla manifestazione silenziosa e tra questi il primo cittadino di fonte alle prese con l'imminente invio di 228 migranti. Io ho già spedito tutte le firme che abbiamo raccolto lunedì sera al Consiglio Comunale ma anche quei problemi di ordine sanitario che ci sono e poi sono molto preoccupato anche per la sicurezza perché 228 persone in uno stabile non so come faccia il prefetto a essere sicura che la sicurezza è tranquilla. Io non mi sento affatto tranquillo e neanche i cittadini. Intanto non solo non si ferma la macchina che porterà in tarda primavera i primi degli oltre 100 ma si parla fino a 500 profughi nell'ex caserma di Piavon. Un problema secondo i cittadini non solo logistico viste le strutture fattiscenti ma anche di ordine pubblico per quello che è già stato definito il ghetto sul Monticano. A noi spiace questo tipo di imposizione senza soprattutto numeri perché noi come cittadini, soprattutto parlo sempre come cittadini, siamo per l'accoglienza diffusa. Figuriamoci se riusciamo a gestire centinaia e centinaia di persone all'interno di una struttura in quel stato. Che dobbiamo proteggerci perché con un'invasione di immigrati non vedo il motivo senza spiegazioni, senza ragioni. Noi non possiamo pensare di accogliere queste persone sui nostri territori dove non c'è più la certezza della pena, dove le pene non sono inasprite, dove le forze dell'ordine non hanno una legge dalla loro parte e dove la legittima difesa non esiste più. Accanto alla protesta il presidente Zaia ha lanciato anche la risposta all'emergenza profughi non solo nella Marca e nel Veneto, ma per tutta Italia. Fare i campi di prima accoglienza vicino ai loro paesi o nei loro paesi, lì rifolcillarli, lì curarli, lì ascoltarli, lì verificare se hanno veramente le condizioni e lo status di rifugiato e solo da lì garantire a chi veramente ha diritto un corridoio umanitario. Tutti gli altri se ne devono restare in Africa.